Ragazzi, questo Davido 025, non ha capito che lo volevo truffare. Ragazzi, ora io ovviamente farò finta di niente e andrò a scambiare con lui e gli farò vedere come truffò. Lui però non lo sa ragazzi, cioè non si aspetterebbe che lo truffassi. Ora lo truffo, raga. Buona visione. Oh Davido, ci sei? Eccola. Bella, saluta il video. Ebbene a tutti, ciao raga. Ok, allora bro, vai, droppami un paio di armi. Vai, droppa, droppa. Eh bro, le leggendarie, non le viola. Eh, c'ho poco le leggendarie. Vabbè bro, fallo vedere a tutti. Dai. Vai, vai, droppa, droppa, droppa. Bro, le leggendarie. Non ci rende più di leggendarie. Prendi le viola, prendi le viola. Eh, le celesti. Bro, ho detto prendi le viola. Ok? Butta solo le dorate. Solo le dorate. Tutto qua bro. Eh, questo. Bro, ma perché l'hai ripreso? Eh perché ci sono queste. Eh bro, voglio vederle. Fa vedere. Ributta tutto. Legendarie, basta. Questa è? Eh questo. Eh dai bro. Bella bro. E GG. Ho trovato il truffatore. No bro, non piangere, bro, non piangere. No bro. No bro, non piangere, sono quelle. Bro, per favore, non devi piangere, guarda. Bro. Mi dobbiamo le armi. Bro, ti rega un fiore. Eh, non mi abbandoniamo le armi. Bella raga. Ok. Così. Ma perché piangi? Perché ci sono quelle come armi. E fa vedere cos'hai ora? Eh, lo scavafosse, lo scavafosse, lo scavafosse, l'orso. E quella è la terizia. Non le vede, ci sono quelle. Perché dimmi i nomi che ti rendo tutto. Lo scavafosse. Quello, bravo. Era livello 68 di malachite. L'orso è l'orso e basta. L'orso che livello era? Che livello era? L'orso? L'orso che livello era? L'orso 43. Bro, io mio 2 al 58. No, allora, mio 1 all'82. Eh? 1 al 58. Eh? E basta. Era 82. Ah, no, no, è l'orso. Era 58. Sicuro, non è che era l'orso 82? Eh no, era l'orso 82. Basta, ma in bello. Ah, no, era l'orso 82. Ah, no, era l'orso 82. Era l'orso 82. Eh? Eh, volevi, bro. Eh, l'orso 82 era mio. Bro. volevi truffarmi volevi truffarmi ora per questo non ti rende le armi e gg allontanati ok posso io ora avere permessi ok è bro ma devi trovare ok a quanto mi ha detto che da cosa pg cosa ti serviva l'apparizione volevo l'apparizione ok bro a bella bro come no bro tu tu fai così ai miei specie mi freghi capito però però devi muovere sono io come faccio a droppare bro io non posso poi droppare dai ti odio però non ci credo me lo stai regalando ok aspetta schiacciando però però dobbiamo scambiare seriamente però parola ok però parola sei scala fosse o però apparizione e deciditi uno delle due cosa volevi allora seguiti da apparizione però vale molto tutti si credono fattori ma vengono fatti ok o si va deve averci cura ok allora devo fare una giunta di malachite bro la la giunta di malachite e gg sì